Inizia nel migliore dei modi il 2020 per il Manfredonia Calcio, battuto per 4-2 il Castellaneta e aver consolidato ancora di più il primato in classifica grazie al pareggio dello Slay per 1-1 a Canosa. Ma veniamo alla cronaca della gara, iniziativa subito del Manfredonia al quarto minuto con Perez che entra in aria e il suo tiro viene ribattuto dal portiere ospite. Ottavo minuto Trotta, metti al centro un'ottima palla per Grumo anticipato dall'uscita di Lovecchio. Al decimo è il Castellaneta, rendersi pericoloso con Di Matera, Morgillo non si fa sorprendere. Quindicesimo del primo tempo, è il momento del vantaggio Bianco Celeste, angolo per il Manfredonia. La palla viene smanacciata dal portiere Lovecchio e termina Telera che deposita la palla in rete per l'1 a 0. Ventinovesimo raddoppio Bianco Celeste con il capitano Trotta che si porta quasi all'esterno dell'aria piccola e chiude la palla sul secondo palo per il 2 a 0. Trentunesimo break del Castellaneta con Di Benedetto, la palla di poco fuori. Trentaquattresimo minuto, Di Noia ha un'ottima occasione su il tiro che viene parato da Lovecchio. Al trentasettesimo Trotta ancora protagonista ma il suo tiro si stampa sul palo alla destra di Lovecchio. Qualche minuto dopo al quarantunesimo è il Castellaneta da accorciare le distanze con Di Matera, complice un errore difensivo del Manfredonia. Nella ripresa subito in campo la squadra ospite che si rende pericolosa al terzo minuto e pinto ad impegnare Morgillo. Ottavo ancora ospiti in avanti e pericolosi con Di Matera su e il tiro che viene neutralizzato dal portiere Bianco Celeste. Diciassettesimo grande slalom di De Filippo tra la retroguardia ospite che poi lascia a grumo il compito di depositare la palla in rete per il 3 a 1. Ventisettesimo mani in area di Fago per il Castellaneta. Calcio di rigore decretato dall'albitro il signor Didio di Foggia e ammonito il difensore ospite sulla palla Trotta che realizza il 4 a 1 per il Manfredonia. Dopo la quarta rete bianco celeste girandola di sostituzioni per i sipontini escono Trotta, Grumo e Letto e Peres ed entrano Esposito, Armiento, Olivieri e il neoquistofania. Non succede più nulla tranne al quarantottesimo dove il Castellaneta realizza 4 a 2 con un tiro da fuori area di Di Matera complice una deviazione di un difensore sipontino che mette fuori causa il portiere Morgillo. Dopo questa gara il Manfredonia Calcio 1932 si porta a 47 punti in classifica, 3 punti in più dello United Sly come già detto questo oggi che è appareggiato in casa del Canosa. Un Manfredonia che domenica prossima sarà ospite del Bitritto, attualmente terza forza del campionato.